Beautiful anticipazioni americane. Steffi taglia i fondi e chiude la Hope for the Future. Steffi ha deciso di chiudere la Hope for the Future per sempre. Steffi vuole allontanare Hope non solo dall'azienda, ma soprattutto da suo marito Finn. Hope non intende rinunciare alla sua collezione e promette di lottare con le unghie e con i denti per salvarla. Scoppierà di nuovo la guerra tra la Forrester e la Logan o le due troveranno un accordo?